Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Benedizioni a tutti Eckhart Tolle Eckhart Tolle è una persona che mi piace moltissimo non solo è uno scrittore brillante ma di sicuro è una persona saggia che è bene ascoltare e prendere ispirazioni dai suoi discorsi e lui ha detto la guerra è una mentalità e tutte le azioni che vengono fuori da una tale mentalità o rafforzeranno il nemico il male percepito o se la guerra è vinta creeremo un nuovo nemico un nuovo male uguale e spesso peggiore di quello che è stato sconfitto e guardate in un certo senso dobbiamo capire anche che quello che accade in un tipo di situazione globale in termini di guerra e di cose così in realtà a meno che non sia davanti a casa nostra non sono affari nostri so che questo suona molto duro molto forte ma dovete capire che se avete abbiamo un detto nella nostra tradizione ci sono i tuoi affari gli affari degli altri e gli affari di Dio giusto? e per lo più entriamo negli affari degli altri e quindi visitiamo andiamo a visitare il loro regno e non dobbiamo fare niente là però perché non puoi essere il re in un altro regno e non puoi essere neanche lo schiavo dell'altro non vuoi essere il suo soldato il suo ministro perché tu sei il re nel tuo regno quindi se entri nel regno degli altri non potrai mai trarne beneficio e poi ci sono gli affari di Dio quello è il regno di Dio e nel regno di Dio non c'è assolutamente nulla per noi da fare là perché noi siamo sempre nel suo regno e siamo dei piccoli re nel suo regno ma se si tratta del suo regno noi possiamo solo arrenderci e abbiamo solo un'arma che ci rimane e sono le nostre preghiere non c'è nient'altro che possiamo fare se volete mandare soldi potete farlo ma se siete sicuri che arrivano là ma più di questo che cosa vuoi fare? ci sono persone che vanno per strada fanno dimostrazioni il mio insegnante diceva sempre che noi non siamo gente della dimostrazione noi non facciamo dimostrazioni perché che cosa ne esce? per quanti anni il Movimento per la Pace ha fatto dimostrazioni gigantesche in Germania, in Italia, in Spagna dovunque nel mondo e ha mai fatto muovere qualcuno e non costruire più armi più situazioni che causano la guerra? no è un totale fallimento giusto? perché queste cose non accadono o non è che non accadono quando un gruppo fa una dimostrazione nulla accade grazie alle dimostrazioni e neppure accade attraverso le discussioni, i dibattiti questa è un'altra idea la gente pensa che la politica possa prevenire queste cose ma cosa può fare? quando accade, accade c'è solo un uomo al potere che può agire e questa non è la dimostrazione e se l'uomo al potere è buono diciamo è un re benevolo un re saggio allora cercherà di fare pace con i vicini cercherà di star bene altrimenti è un tiranno ed è quello che vediamo dovunque ora e tutti quelli che credono nei cosiddetti valori delle democrazia certo la libera parola queste cose però guarda la libera parola la libertà di parola va bene quando è una buona parola ma quando entra e diventa un discorso di odio non è benevolo e dovrebbe essere proibito giusto? dovrebbe essere proibito che qualcuno che qualcuno scritta delle cose anonime l'uno l'altro perché altrimenti in questo modo non prenderemmo mai responsabilità per ciò che diciamo e che facciamo quindi l'esistenza ha un modello e questo modello è che c'è una intelligenza suprema al di sopra di noi che ci governa ci sono delle leggi e queste leggi sono leggi universali e non possono essere bandite da nessuno qualunque idea tu abbia della tua vita quando è in sincronia con queste leggi e ora arriva un'altra pillola difficile da ingoiare tutti i manuali tutti i libri sacri che chiamiamo libri sacri da Bhagavad Gita fino alla Bibbia al Corano alla Torah tutti questi libri che sono libri sacri sono dei manuali di contatto non solo di contatto ma anche manuali di come vivere una vita suprema la Gita la parola Gita significa canzone è una canzone divina e quindi nel Corano il Corano dice recita recitalo il Corano è una sorta di ordine significa recita ed è obbligatorio per noi ascoltarlo è un dovere ascoltarlo ma se lo reciti è ancora meglio e perché dovremmo farlo? perché ci sono dei libri che devi cantare o recitare e se ascolti una recitazione del Corano è una sorta di canto anche se dicono che non è permesso cantare ma è una sorta di canto e cosa ci fa questo canto? se ad esempio reciti la Sura Yasin che è il cuore del Corano questo cantare questa Sura è qualcosa che ti risetta tutti gli errori che facciamo ogni giorno tutta l'energia caotica che emaniamo tutti i piccoli o grandi errori che facciamo li risetta ti riporta al cuore è per questo che si dice che è il cuore del Corano il numero è 36 cioè il 9 perché tutto nella creazione è governato dal numero 9 il 9 è il numero che governa tutti i numeri quindi la nostra posizione verso questo la nostra posizione saggia è diventare 9 cioè 99 significa che sei nella capacità infinita di te stesso sei il Khalifatullah diventi tu stesso racchiuti dentro di te tutti gli aspetti dei nomi divini dentro di te questo è quello che il Divino ci vuole dare ci vuole offrire ci offre costantemente questo quindi ci dà tutte le istruzioni per farlo e dice segui le leggi segui le leggi non ti piaceranno chiaro ma se le segui vai lungo una via sicura e per questo che Sharia significa strada in arabo è un cammino e se cammini in modo diritto arriverai arriverai sicuro e non solo arriverai ma anche altri saranno al sicuro da te perché questo magari è l'aspetto più importante quindi in ogni tradizione in ogni tradizione sacra è proibito attaccare tu non inizi un combattimento Sein Ali diceva io mai inizio un combattimento ma non sono neppure quello che scappa via quando c'è se qualcuno mi attacca eccomi qua questa è la posizione di un uomo di un leone è un uomo sano lui sta là ed è in grado di proteggere la sua famiglia la sua terra ma non è uno che attacca noi siamo questa specie e abbiamo queste energie dentro di noi questa energia di guerra ognuno ce l'ha dentro di sé e queste scoppiano dentro le relazioni e se questa energia di guerra non ha un buon posto dentro di te tu inizierai una guerra con ogni cosa sarai sempre in guerra avrai la sensazione che la vita per te è una guerra e che se puoi portarla nella posizione giusta allora questa energia ti darà beneficio e sarai ad esempio una persona con una forte forza di volontà una persona che può raggiungere delle cose che può lottare per il bene in questo momento questo potere si trasforma in qualcosa di buono ora siamo in questo tempo dove tutte le cose esplodono questi comportamenti folli che abbiamo continuamente arriveranno a un punto clou e arriveremo in un periodo di grande situazione di grande una situazione di grande pressione di grande Grazie.